Vado alla ricerca di me Vado alla ricerca di me Mi fa un spostamento a sinistra adesso Che è un monodito se ti vuoi provare a tenere qua Stefano Che è un monodito? Lì davanti alla faccia che è mio monodito Davanti alla pancia più meno Te lo tieni un attimo Ti sposti la mano lì dove ho detto mille Prova a tenerlo quel lì con la destra adesso E va a sinistra col corpo Vedi ok Se lo dice parlo subito con la destra Faccio lo troppo con la molle La mia mela sulla qua Qua Quanto è che il ciolo bisogna Cioè E dopo ti metti il ciolo come è freddo A sinistra che le maniglie buone Su l'ongo Bravo Subito con i piedi così Così con i piedi va bene Ok Aderente bene Cioè Aderente Aderente Si è partito bene Mi puoi Ma Grazie a tutti. 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 E so di cosa si tratta lì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo. che è un sassolino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.